Pronto? Mamma, si sta mangiando la polpetta Rindo piatto Ciro, che succede? Si sta mangiando la polpetta Ma chi? Il provolone Il provolone mangia la polpetta? L'attore della fiction Il papà di Ludovica sta con mamma Un attimo, non sto capendo Di che attore stai parlando? Quello del corso di teatro Ma chi Stefano Belli? E' il papà di Ludovica Non si chiama Mancini? E' un nome d'arte Mamma, la situazione è grave Chi si cassa stanno facendo il cofecchio Cofecchio, che significa? Non ti capisco, spiegati meglio Sono nel giardino Sono nel tuo giardino Lui la carezza Lui la carezza Com'è la carezza? Lei sorride Lei sorride Quanto sorride? Ci sediamo Lui le prende la mano 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 Aspetta, sono sotto l'ombrellone Non riesco più a vederli Poi? Oh, Ciro, poi Ciro la sta baciando? Non si capisce Ma come non si capisce? C'è, quando uno bacia un altro si capisce Perché sono attaccati Si vede Ah, vedi qua Sono... Crepuscolare Intimista Un po' solitario Che fai? Mu bevi Ciro, che succede? Pronto? Adesso basta parlare di me Parliamo un po' di te Ok Ma tu Che cosa pensi di me? Ciro! E' accaduto! Tutto a posto Oh maranna mamma Ti sei fatta male Ti avevo fatto niente Ma... 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 ma...